Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! S 24 Per un risultato dàia di è inicia. Sficientes nothing ha fatto da psychologist. 完全にソロだったからしかも ダイヤまでいかに勝率高くいくかみたいな やれやれ 死体の山が出きちまうぜ 確かに 9ポイントしか離れてないんですよね 20位までと そういうこと 1位と2位のチームが最強ではあるか 1位2位がずば抜けて ずば抜け穴マジでこれすごいな 那覇さんのところと 1位2位のチームは C'è un'altra cosa? Che c'è? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? Non è che c'è un'altra cosa? NTH è morto, Riddell è morto Fnatic è ancora vivo, NRG è ancora rotto C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? Ci sono due sto Ma non faccio guardare Ci sono state, non faccio guardare non faccio guardare C'è un'altra cosa? Ci sono ieri Voi tolge Le barre di guida Questa è una questione Le barre di guida Le barre di guida Ma ieri Le barre di guida Joystick Even my joystick is a mouse input Everything And of course The main thing being used here is gyro This is going to be how I aim How I move How I do everything So That's what we're going to be doing Could be fun So instead of switching to mouse and keyboard I brought my controller To become a mouse and keyboard To become a mouse So we'll see how it goes We'll see how it goes The main So the coolest thing Is since So I can do scroll wheel So my touchpad is scroll wheel down So fight I'm going I'm going to buy Okay No, I can't Ah, he's not going to miss Ah... he doesn't captain Ah... he's not trying to believe No, he's not going to play Oh, I'm going to do Not sure One- clap, one- clap Let him get an A-B iron I'll see you Sali molto chusevano San Antonio Sì 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 Ah! Oh che cazzo! Ok ok! Ah! Noi! 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 Ah! Noi! Ma'amon! 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 M'amon自己的... 參賽羽力 然後去想要超分什麼之類的 又不是故意去打破規則 那個比賽也是我們這個好朋友 這個比Sakura的 我幹嘛去搞人家就很奇怪了 所以我才覺得很不舒服 然後我就私密的這個人一堆東西 if you think they got enabled Nacca Un soldi Siamoci Siamoci Di questo schieno! Mi stagione dai da MRK. Ok! L'ho tirata! Stagione! 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 Noi andiamo a vedere se le abbiamo spiegato di questo ma non è il problema la nostra città è un pezzo anche di questo la città è un pezzo non c'è qua non c'è un pezzo non c'è un pezzo ok, c'è un pezzo Sì No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.